Una cosa, adesso che vai al supermercato non batere a spese, col palantieri e il zampione a volontà, a volontà, mi raccomando, che stai aspettando, muovi sto culo, vai, questa volta che era? Era la femmina, era la femmina, l'esemplare femmina, ci cerchiano e si trovano, attenzione, mutacci. E dopo questa pappata, mi sento veramente molto meglio, eh. Torni a trovarci, ma si è santucci. Oui, oui, c'è ton sicura mano, perché non mi c'è veramente un bion bion. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao. Tu so, c'è un legno, se nguatta sempre, se nguatta. Ascialò! Ascialò! Eccomi, dottore. Oh, e' namo, te nguatti se, tre forze, eh. No, ti devi perdonare, dottore, che col fatto del jet lag mi ero un po' appisolato. Ha mangiato bene? Che state vogliaia? Ostri che, alla costa, mi ha fatto una bella cegna, però i francesi con ste salsi inguacchiano troppo, ma certo. Ah, il vino era buono, che io ho dato sottoforte. L'ho speso così. Cioè? Trecento dollari. Ti ha mangiato? Un bel panino, sì. Trecento dollari? No, tre dollari, un panino. Ti è strutto troppo, eh. No, no. Ti faccio lavorare tanto, ti è. Ti è rimasto un ciascino, ti è rimasto. O sai che nuova c'è? Guideremo Santucci. In che senso? Nel senso che ti porto a casa io. Ma guardi che non sono stanco, eh. No, stai a dormire, stavi. No, mi ero appoggiando. Russavi! No, mi ero appoggiando.